Ciao da Absim, dobbiamo assolutamente parlare dell'Atalanta perché è veramente una squadra di copertina in questo momento e per farlo non ho pensato ad altro, a cosa migliore che a coinvolgere il più grande simpatizzante e stimatore dell'Atalanta, del globo terraqueo, ma direi soprattutto di YouTube Italia, cioè il grande Alessandro Catto. Ciao Ale. Ciao ragazzi, ciao Simone, ciao Simone, sì è notoria la mia simpatia per l'Atalanta, non potevi fare scelta migliore, non potevi. In realtà non è così, fuori di sarcasmo Alessandro ha un'antipatia malcelata, anzi proprio palese, palesata e dichiarata nei confronti dell'Atalanta su tutti i suoi social. Naturalmente per prima cosa vi invito a seguire Alessandro Catto su YouTube e anche su Instagram, sui suoi video YouTube trovate anche il link per il suo Instagram e vi raccomando di seguirlo perché si parla di calcio a vette altissime come le vette che sta conoscendo, iniziando a conoscere l'Atalanta che ha conquistato il terzo posto l'anno scorso ma anche in questo momento, in questa nona giornata, nona giornata traballante perché sta per arrivare la decima. Quindi ci sarà una partita importantissima dell'Atalanta a Napoli, mercoledì alle 19, che sarà una partita rivelazione, ti chiedo? Sì, ma guarda io credo che sia a tutti gli effetti possa essere definito già uno scontro al vertice perché l'Atalanta non è nuova a queste posizioni, adesso al di là della simpatia e dell'antipatia poi c'è da fare un discorso oggettivo che può essere fatto al di là di queste cose. Si affrontano una squadra che sta deludendo, perché il Napoli secondo me oggettivamente sta deludendo e sta mostrando un po' i limiti del ciclo Ancelotti, per certi versi, che è un ciclo un po' iniziato in fase calante, passami questo termine. E una squadra invece in forte ascesa, non solo da questo campionato ma da diversi mesi, è un po' diciamo lo scontro dell'antico contro il nuovo, possiamo definirlo così, può essere una chiave di lettura interessante. E a tutti gli effetti... La Juventus tra l'altro l'Atalanta per produzione offensiva ha meritato davvero di arrivare a questi numeri, non c'è arrivata per caso, però c'è il punto della fase difensiva, in cui invece il Napoli sta messo abbastanza bene, che è una fase difensiva dell'Atalanta quasi disastrosa, perché è quintultima o sestultima in Serie A, con mi sembra 14 gol subiti in questo momento, e addirittura in Champions League ha subito più gol di tutti, di tutte le altre squadre, 11 gol più del Genk che ne ha presi 10. Credi che questo sia la fotografia, questi numeri sono la fotografia dell'Atalanta o c'è dell'altro? Ma guarda, allora, parto dalla tua riflessione iniziale, dove può arrivare questa Atalanta? Allora, se noi analizziamo un po' il ciclo Gasperini, è una squadra che da anni si sta evolvendo sempre più e lo fa a scalini, fa anche rima, nel senso che ha iniziato puntando e raggiungendo un'Europa League. Lo scalino dopo è stata la Champions, non mi stupirei di un'Atalanta che magari non lo vince, ma che può essere la terza incomoda per la lotta a Scudetto, più proprio del Napoli, quindi non me ne stupirei più, ecco, non me ne stupirei. Per quel che riguarda la difesa, sicuramente possiamo dire che la difesa è il reparto più debole della squadra, su questo sono sicuro, perché comunque il centrocampo gode del dinamismo della manovra di Gasperini, dei vari Atebor, Deron, Gossens, che sono tutti giocatori molto dinamici e molto di nerbo anche, l'attacco è anche sulla carta uno dei più forti della Serie A, sicuramente in difesa concede qualcosa e questo lo notai e lo dissi anche quando l'anno scorso la Fiorentina, che è la mia squadra, andò ad affrontare in semifinale di Coppa Italia proprio a Bergamo l'Atalanta. Per me l'unica cosa che in Serie A può essere aggredibile per l'Atalanta è la difesa, poi è che in Champions questo si amplifica, aggiunto anche magari ad una mancanza di esperienza. E comunque è una voglia anche che io apprezzo, perché c'è anche chi non l'ha apprezzata, di giocare come si sa, come si vuole e come si fa in Serie A anche in Champions. C'è chi dice no, bisognerebbe adeguarsi, forse era meglio fare delle partite più accorte, io dico che ci può stare. La Champions è un laboratorio per l'Atalanta. Quindi mi hai già risposto anche ad un'altra mia curiosità su questo, cioè qual è la differenza tra l'Atalanta in campionato e l'Atalanta in Champions, e se può essere in qualche modo un elemento che ci fa capire la differenza tra Serie A e Champions League. Cioè com'è possibile che l'Atalanta non tanto riesca a segnare, perché su quello insomma ci siamo, ha giocato anche contro il Manchester City nel bene e nel male, cioè nel senso sia per la difficoltà di far gol al Manchester City, sia per la facilità di prenderne. Però come mai? Non tanto, dicevo, l'Atalanta non riesce a segnare, ma prende tutti questi gol in Champions League. È un difetto dell'Atalanta, è una squadra che non ha aggiustato la fase difensiva, è Gasperini che la sottovaluta, ci sono questi elementi, oppure non c'entra l'approccio e a prescindere da quello che è stato, come dici giustamente, è anche incomiabile l'approccio, la voglia di calcio, la voglia di giocare e di giocarsela dell'Atalanta, le cose sarebbero andate ugualmente lo stesso, cioè in qualsiasi altro caso. Allora, secondo me sicuramente una componente di inesperienza barra tremore alle gambe ci può essere, perché comunque stiamo parlando di un esordio a tutti gli effetti. Conta per me anche il fatto che trovi squadre che hanno una mentalità consolidata, una mentalità europea, perché per esempio lo Shakhtar, pur non essendo una grandissima squadra, è una squadra che a questi livelli ci gioca sempre, sono squadre che nei loro campionati consolidano delle mentalità vincenti. Ora, non sto qui a dire che mi aspettavo un'Atalanta che sarebbe uscita nel girone o che avrebbe collezionato così poco, perché io a dire il vero, al momento del sorteggio mi aspettavo anche una squadra capace di andare avanti, lo dico onestamente. Il problema è che appunto sì, si nota un ritardo anche di mentalità del campionato italiano rispetto a una competizione dove comunque quasi tutti giocano per vincere o meglio con una mentalità prontata alla vittoria, e invece in Serie A dove ci sono delle gerarchie, dove ci sono delle squadre che giocano magari ancora chiudendosi, cercando il contropiede. L'Atalanta è un po' un'evoluzione da questo senso, ma in Champions trovi pane per i tuoi denti. Tra l'altro controllavo anche le partite che ha giocato l'Atalanta in questa Serie A e contro la tua Fiorentina ha pareggiato 2-2, ovviamente lo sai, lo ricordi benissimo, o forse la Fiorentina è riuscita a fermare l'Atalanta 2-2 se voi ne parliamo. Per il resto è vero che ha giocato comunque contro squadre di tutto rispetto, anche se in un momento difficile come possono essere Sassuolo, Roma, magari anche la Lazio. Però in effetti la partita di mercoledì a Napoli è forse la prima partita di vertice per l'Atalanta, anzi sicuramente, perché non ha giocato né contro la Juve né contro l'Inter. Quindi da questo punto di vista l'Atalanta è ancora chiamata ad una prova di maturità, anche in Serie A, oltre a quella della Champions, dove ovviamente con 0 punti, un distacco di 4 punti, la strada è in salita anche per il terzo posto, però non è ancora detta l'ultima parola. La credi in un colpo di coda, in un guizzo dell'Atalanta europeo? Ma oggettivo, cioè, credo che la difficoltà sia matematica, perché nel senso dovresti fare 9 punti praticamente, che è una soglia un po' psicologica, perché con 7 punti la vedo dura che in quel girone si possa fare qualcosa. Dovresti vincere in casa col City, vincere in casa con la Dinamo Zagabria e andare a cercare di fare punti ad Onetsk. Io la vedo dura onestamente, credo che il girone sia un po' compromesso, quello sicuramente, ma attenzione, cioè può essere un'arma a doppio taglio, perché se l'Atalanta esce dal girone di Champions, e magari non ricade, tra virgolette, neanche nell'Europa League, un'Atalanta che arriva quarta nel girone, che ha solo il campionato davanti di cui occuparsi, praticamente può essere veramente una mina vagante. In Champions la vedo un po' dura, forse si è capito che per quest'anno è meglio fare questa esperienza e riprovarci l'anno prossimo. Credo che ormai sia dura pensare ad un ribaltone. Nel calcio moderno contemporaneo, dove contano soprattutto i soldi, evidentemente, la partita dell'Atalanta in Europa è sul bilancio più che sull'erba. Ma a questo punto si è parlato, parliamo necessariamente anche del Manchester City, che è un ostacolo sul cammino dell'Atalanta, perché l'Atalanta non è un ostacolo sul cammino del Manchester City, a quanto pare, però devo dire che tu, da non estimatore dell'Atalanta, ormai lo diciamo apertamente, su Gasperini voglio sentire il tuo punto di vista, soprattutto questo incontro-scontro Gasperini-Guardiola, Guardiola-Gasperini, come si colloca Gasperini? Cioè, è materia concreta? È qualcosa di tangibile Gasperini nel panorama europeo o è qualcosa di nostrano, nostrissimo? Allora, guarda, al di là, ripeto, cioè io non ho in grandissima simpatia l'Atalanta, per carità, però non posso non notare che la società, lo stesso Gasperini, cioè è stato fatto un lavoro esemplare, cioè non buono, è stato fatto un lavoro esemplare che dovrebbe essere esemplare, oggettivamente esemplare, per tante squadre del nostro campionato, questo è fuori di dubbio. Per quel che riguarda Gasperini, guarda, io ho sempre detto che quest'anno giocano la Champions, quelli che sono i quattro migliori italiani, secondo me, attualmente sulla scena. L'unico dubbio che ho è su Ancelotti, nel senso che Ancelotti per me ha sempre goduto di grandissime squadre, dove allenava e non ho questa grandissima considerazione dell'Ancelotti allenatore. avrei voluto vederlo più alla prova da altre parti, però su Gasperini niente da dire, cioè secondo me è sicuramente uno dei migliori, sicuramente è nel podio dei migliori allenatori italiani, quello poco ma sicuro, ci metto attualmente Sarri, ci metto Conte, ci metto Gasperini. E quindi per me è una realtà, sicuramente, per quel che riguarda l'Europa, poi lì vai in un calderone con tanti allenatori meritevoli, diciamo che ci può stare, perché se sei, se siamo d'accordo nel dire che è tra i tre migliori allenatori italiani, credo che il terzo miglior allenatore italiano, come lo considero io adesso, con punte anche in alcuni settori di primissimo piano, possa giocarsi anche le sue carte in Europa, quello sicuramente. Quindi possiamo aspettarci un Gasperini che dopo aver fatto la sua grande squadra o la sua squadra grande, vada ad una grande squadra già fatta e finita, già comprovata, già costruita, di qui a qualche anno, non dico mese, perché penso che andrà oltre questa stagione l'esperienza di Gasperini all'Atalanta, e potrebbe poi magari diventare il tecnico italiano di una squadra italiana di vertice, che non sia più l'Atalanta, ovviamente non metto in questo la Juventus, perché adesso ha iniziato questo ciclo, che si spera Florido, con Sarri, che dovrebbe andare avanti almeno tre anni, però qualche altra squadra, oppure proiettarsi effettivamente nel panorama europeo, anche se probabilmente, mi dirai come la pensi su questo, proprio questo cammino europeo tutto sommato è un po' un handicap per l'immagine di Gasperini distaccato dall'Atalanta per quello che può essere la considerazione nel calcio estero. Ma guarda, credo che poi una squadra che volesse prendere Gasperini, non lo so, in Inghilterra o in Spagna, penso vada anche a vedere anche il suo pedigree italiano, e questo penso che influirebbe abbastanza in quella che sarà, magari, o potrebbe essere una decisione sul suo eventuale arrivo. In Italia non vedo grandissime finestre in grandissime squadre per Gasperini. Vuoi? Perché non ci sono queste grandissime opportunità? Perché oggi, tutto sommato, con tutto il rispetto, andare in una Roma, in una Lazio, non è che ti cambia le sorti della carriera piuttosto che restare a Bergamo. il Milan purtroppo lo vediamo tutti come è messo. La Juve ha Sarri e credo che sarebbe la squadra più indicata probabilmente in cui potrebbe andare Gasperini, ma c'è Sarri e non credo che ci sia l'idea di cambiare per adesso. All'Inter l'abbiamo già visto, probabilmente è un allenatore che potrebbe essere una sorta di underdog per qualche big europea o medio big europea nel giro di qualche anno, però credo che abbia tutto l'interesse a rimanere a Bergamo ancora per qualche tempo. Magari far diventare proprio l'Atalanta una big dei nuovi anni. Se può dare continuità a questo percorso sicuramente è entusiasmante. Quindi parliamo dell'Atalanta, si continuerà a parlare dell'Atalanta. Noi abbiamo parlato dell'Atalanta nel nostro piccolo, quello che ci è venuto in mente, quello che abbiamo osservato, quello che abbiamo potuto considerare. Io e Alessandro Catto vi invito ancora una volta ad iscrivervi al suo canale YouTube molto molto interessante, aggiornatissimo su tutte le squadre. Lui tifoso della Fiorentina ma gli piace parlare di calcio ed è un sarriano-sarrista, dillo. Un colonnello del sarrismo sono io, un talebano del sarrismo sono io, assolutamente. E come tale si colloca in maniera perfetta in un ambiente ormai juventino con un discorso interessantissimo che hai fatto sul tuo canale, cioè ormai l'anti-juventinismo e anti-anti-juventinismo. Sì, diciamo che quest'anno la Juve è una squadra che apprezzo devo dire perché con Sarri è impossibile non avere una certa attrazione diciamo un'attrazione malsana ma che ci eccita anche per quel motivo diciamo da tifoso fiorentino lo ammetto senza problemi. Sarri che rende la Juve simpatica. Certo, io sono convinto che comunque la Juve con diciamo con l'arrivo di Sarri abbia acquisito una dimensione più romantica più umana che anche una certa tranquillità diciamo che la fa vedere con un occhio diverso anche a tifosi di altre squadre poi ovvio uno che magari ha sempre avuto il tarlo dell'anti-juventinità magari un interista di ferro non credo che siccome è arrivato Sarri simpatizzi però magari tanti tifosi di altre squadre che magari avevano anche loro simpatia per Sarri o che non hanno mai avuto un odio viscerale per la Juve questa cosa può anche aver creato un sentimento anche interessante da quel punto di vista. Io ringrazio ancora una volta Alessandro Gatto per la disponibilità e per la grande ottima approfonditissima analisi sull'Atalanta su Sarri sulla Juventus e non solo ciao Ale ciao a voi ragazzi grazie mille Simone alla prossima iscrivetevi al canale di Alessandro Gatto iscrivetevi al mio canale in entrambi i casi attivate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video ci vediamo molto presto in bocca al lupo alla Fiorentina e sempre forza Juve a tutti i prossimi video